Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ancora molta variabilità sul nostro territorio, infatti l'anticiclone della Zorre resta ancora molto distante dai nostri territori. Pertanto si ripeterà la variabilità nelle prossime ore, così come nella giornata di domani, quando ci attendono ancora degli scrosci e dei temporali nelle ore centrali della giornata. D'altra parte però le temperature cominceranno un pochino a crescere, infatti correnti piumite occidentali porteranno un innalzamento soprattutto dei valori massimi, la colonnina di Mercurio che si posizionerà intorno ai 16-18 gradi a Clusone, 22 gradi nella città di Bergamo. Ma come andrà la prossima settimana? Ecco, almeno fino a martedì avremo ancora questa variabilità, infatti correnti fresche di provenienza nord-orientale seguiteranno ad affluire sulle nostre regioni settentrionali dell'Italia e quando queste correnti da est entrano proprio sul nostro territorio aerobico, i rovesci e i temporali lo fanno da padrone. Per cui lunedì, se al primo mattino avremo cielo in prevalenza poco parzialmente nuvoloso, nel corso della giornata avremo ancora gli acquazzoni e dei piovaschi a bagnare il nostro territorio. Martedì questa instabilità sarà relegata solo ai nostri rilievi aerobici più settentrionali alla Valle Camonica, dove proprio nelle ore centrali della giornata l'instabilità termoconvettiva favorirà ancora questa variabilità e questi scrosci di poggia accompagnati talora da qualche scoppio di tuono. Mercoledì un po' di variabilità sul nostro territorio con temperature in graduale aumento, tanto che a Clusone potremo raggiungere anche i 21-22 gradi. Però attenzione perché nel corso della giornata di giovedì arrivano dei nuovi acquazzoni sul nostro territorio, perché si formerà una nuova circolazione seppur debole e depressionaria sul nord Italia e quindi ancora acquazzoni probabili sul nostro territorio. Venerdì invece è una giornata all'insegna del tempo abbastanza buono, con la possibilità di qualche piovasco solo in alta montagna, in attesa di un prossimo fine settimana che probabilmente sarà accompagnato dal cielo poco parzialmente nuvoloso, con temperature in ripresa e quindi con un graduale miglioramento del tempo su gran parte dei settori orobici del nostro territorio. E per il metretutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.